buongiorno ragazzi è arrivato il momento del collaudo questi elicotteri non sono giocattoli bisogna sempre sempre farsi seguire se uno è principiante se all'inizio da gente competente perché oltre a buttare via un mucchio di soldini ne va dalla vostra salute non sono giocattoli assolutamente quindi noi facciamo il collaudo con una maniacs 4005 prendiamo la radio accendiamo la radio aspettiamo qualche secondo inizializza aspettiamo che inizializzi il modello fare sempre 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 il controllo prevolo sia ciclico che coda prendere il modello in mano contro di lanciare sempre i tuoi movimenti andiamo a inserire la capottina e la sempre guardare che i cavi non si rompano le scatole faccetti e io per facilitare la cosa ci ho messo due pezzettine di faccetta ragazzi è arrivato il momento più bello che è il collaudo in volo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.